Sindaco partiamo da una sua dichiarazione, ha detto in questi giorni hanno messo in campo insidiose, subdole, cattive e violente azioni per metterci in difficoltà e provare a impedirci di approvare il bilancio. A chi si riferisce? Continuano una serie di attività incredibili di discriminazioni sulla città di Napoli, tagli di ulteriori 15 milioni di euro per il comune di Napoli, ulteriori normative finanziarie per una città che in piano di riequilibrio ti mettono in ginocchio, la vicenda del pignoramento del CR8 che il governo non si è fatto ancora carico nonostante un debito del governo e solo per una piccolissima parte del comune di Napoli e tutta un'altra serie di azioni che poi nei prossimi giorni racconteremo nel dettaglio che sono arrivate a un passo da non consentirci di approvare il bilancio, il che significava il comune che dopo tanta fatica si trovava un'altra volta schiacciato nell'angolo. Noi siamo davvero rammaricati perché in questi anni stiamo facendo un lavoro enorme, abbiamo risanato i conti, stiamo lavorando sulle società partecipate, abbiamo governato la città con trasparenza, correttezza, onestà e autonomia, abbiamo captato fondi europei e continuamente da chi dovrebbe sostenere istituzionalmente, non come piacere ma come dovere, l'azione dell'amministrazione vengono una serie di comportamenti che non possono che spiegarsi con l'obiettivo di mettere in difficoltà la città di Napoli. Quindi a questo punto veramente credo si debba cominciare una mobilitazione politica e cittadina molto forte perché evidentemente quello che sta accadendo a Napoli dà fastidio perché è una città che si sta riscattando, è una città piena di vitalità, una città piena di energia dove tanti vogliono venire a investire, inondata di turisti e anche una città che ha rotto i legami con gli affari, gli affari intesi come la commissione tra politica e affari, la criminalità organizzata, forse a qualcuno fanno gola di tantissimi progetti, lavori e investimenti che si stanno realizzando e stanno per partire, però noi abbiamo messo in campo una serie di azioni che ci consentono di resistere, però è giusto che i cittadini sappiano il tentativo concreto che è stato messo in campo per non farci approvare il bilancio comunale. Intanto poco fa ha firmato il decreto per la nomina di un nuovo amministratore di Napoli Servizi. Sì, è una vicenda anche questa di cui si è parlato molto, abbiamo accettato le dimissioni dell'ex amministratore Domenico Allocca che ringraziamo per il lavoro svolto, abbiamo fatto come nostra regola un avviso pubblico per una selezione, ci sono state diverse pregevoli candidature, alla fine abbiamo scelto un ex dirigente del Comune di Napoli, una persona molto seria che conosce molto bene la situazione del patrimonio del Comune di Napoli e di Napoli Servizi, è stato il dirigente ai cimiteri portando trasparenza e rigore, è una persona che può andare in continuità ma garantire ancora meglio un raccordo tra l'azienda e il Comune e creare anche un clima di tranquillità e serenità che ultimamente si era un po' lesionato, si tratta di il dottore Andrea De Giacomo. Nei giorni scorsi ha partecipato all'assemblea di MDP ribadendo no ad alleanze, sì al dialogo. Sì, ma è giusto che un sindaco di una grande città, un movimento politico del quale facciamo parte, che la nostra coalizione dialoghi, dialoghi con tutti e perché no con chi sta cominciando una nuova avventura politica, è un dialogo tra l'altro assolutamente importante in questo caso perché un rappresentante del movimento cosiddetto MDP è anche consigliere comunale nel Comune di Napoli e sostiene la nostra maggioranza, ma non è assolutamente la prova di un'alleanza politica con questo movimento, anche perché noi ci contraddistinguiamo per una proposta innovativa, alternativa, radicale, che mette insieme rivoluzione e affidabilità di governo. Noi dobbiamo ancora capire se dall'altra parte c'è semplicemente una rottura con Renzi per modificare un equilibrio in centro-sinistra dove può apparire che cambi qualcosa ma in realtà non cambia niente perché se è vero che ci sono dei contenuti che noi apprezziamo, quindi delle autocritiche, perché chi è venuto qui a Napoli a criticare il Job Act sono quelli che il Job Act l'hanno sostenuto, chi oggi critica Renzi sono quelli che lo hanno sostenuto, quando noi dicevamo nel 2014 il Comune di Renzizzato fumo i primi quando Renzi era fortissimo. E poi capire se anche le persone che faranno parte di questo movimento rappresentano una garanzia di innovazione, di credibilità o di cambiamento, perché è evidente che ho visto degli interlocutori che fanno parte sicuramente di stagioni politiche che con tutto il rispetto noi ci riteniamo completamente alternativi, quindi le nostre alleanze sono verso i movimenti, le associazioni, i comitati, le lotte di difesa dei beni comuni, gli amministratori, in settimana staremo con Dema con una nostra delegazione per la battaglia Notap che si sta realizzando in Puglia, quindi questa è la nostra via. Sindaco Erreduce da un fine settimana intenso caratterizzato dalla presentazione del suo libro e dalla visita a Napoli di Camilla. Sì, la visita della Duchessa Camilla ovviamente ci fa piacere perché è il segno di un forte interesse che la città di Napoli suscita sempre di più a livello internazionale. Poi le parole di apprezzamento che ha avuto per il calore dei napoletani, per la città di Napoli, lo stiamo dicendo da tempo, ormai Napoli è in vetta alle curiosità internazionali, c'è un grande interesse per la nostra città e quando vengono apprezzano, verificano che Napoli sta cambiando, sta cambiando in meglio grazie ai napoletani e grazie alla grande forza e potenza che abbiamo messo in campo. Poi sì, ho presentato anche il libro La città ribelle che è la mia testimonianza raccolta da una giornalista Sara Ricca, abbiamo presentato la Domus Ars, c'era tanta gente ed è un modo per raccontare quello che sta accadendo a Napoli, la nostra esperienza, anche la mia esperienza di vita da magistrato, poi sindaco, la lotta per la giustizia, la centralità delle persone di un nuovo immanesimo in questo progetto politico, la lotta alla corruzione, le mafie, il protagonismo di Napoli, la democrazia partecipativa dal basso, gli accerchiamenti, gli ostacoli che abbiamo subito in questi anni, il sindaco di strada e quello che verrà nel futuro, in particolare già siamo proiettati a far diventare Napoli capitale internazionale dei beni comuni con una grande manifestazione che si terrà a settembre di quest'anno. Non possiamo non parlare di calcio, al San Paolo è finito 1-1 contro la Juve, secondo lei è un risultato giusto? No, il Napoli meritava di vincere, a mio avviso ha fatto un grande secondo tempo, una grande maturità, compattezza, determinazione, ha schiacciato la Juve nella propria area, siamo stati anche un po' sfortunati con il palo, insomma credo che il Napoli meritasse di vincere, quindi adesso con questo spirito, con questa forza dobbiamo ottenere la vittoria in Coppa Italia, sconfiggere la Juve. Poi abbiamo visto Iguain che è stato inondato di fischi, devo dire, è stata un'immagine di una forza del tifo che si è sentito tradito da un campione, da un calciatore come Iguain. Nel Napoli ha dimostrato sul campo la sua forza e la sua voglia di puntare in alto. Lei ha fischiato? Ha fischiato tutto lo stadio.